Il treno regionale 21-0-4-4 di Trenitalia, dell'Eone, Reneici e 8 per Genova Voltri, e in partenza dal binario, Reneici, Ferma, Genova-Sampier d'Arena, Genova-Cornigliano, Genova-Sescriponette, Genova-Pin, Genova-Pra. Il treno Intercity 5-1-1 di Trenitalia, dell'Eone, 12 e 52 per Salerno, e in partenza dal binario, Venti, Ferma, Genova-Brignole, Rapallo, Chiavari, Sestri-Levant, La Spezia Centrale, Carrara-Avenza, Massacentro, Viareggio, Pisa Centrale, Livorno Centrale, Campiglia Marittima, Follonica, Grosseto, Civitavecchia, Roma Ostiense, Roma Termini, Latina, Fornia, Aversa, Napoli Centrale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Genova Piazza Principe, stazione di Genova Piazza Principe, il treno, Intercity, 7, 4, 5, di Trenitalia, Deleone, 13 e 19, per Milano Centrale, è in partenza dal binario, 18, ferma, Boghera, Tavia. Grazie a tutti. 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 Fogna, avversa, Napoli Centrale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Genova, Piazza Principe, Brunco Scripia, Arquardo Scripia, Cortona, Poghera, Padia, Milano-Logoredo, Milano-Lambrande. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. 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 Roma, Termi, Latina, Ponia, Aversa, Napoli Centrale. Il treno regionale 11, 8, 5, 2, di Trenitalia, De Leone, 15 e 12, proveniente da Livorno Centrale, per la Spezia Centrale, è in arrivo al binario 2, ferma Carrara-Avenza, Sardana. 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 Grazie a tutti. 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 per la a tutti. 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 a tutti.